Allora ecco, solo gli avrei una piccola situazione perché l'abbiamo finito capire. Effettivamente la richiesta che ha fatto il Dottore è una richiesta soprattutto per capire come mai c'è questo momento che ho finito, però io penso che il Dottore voleva assolutamente capire questo momento che cosa servirà? Quindi lui ha fatto una domanda, penso, abbastanza concreta. Effettivamente il collega, diciamo, con il Dottore ha citato un po' la situazione che non è stato venuto, effettivamente ci sono state le spese che poi... No, 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 ci sono state le spese che poi... Questo è il Dottore, però il Dottore non è un sogno, ma no, non è un Dottore, ma c'è chi ha detto che non ci sia il Dottore, ma un posto, non è un sogno, adesso c'è dentro un dottore, un minuto, unонецimo, un po' la situazione... Posso finire? Posso dire? Sto dicendo la stessa sera. Effettivamente noi dicono noi abbiamo una benedizione, quello che serve, da questo punto, insomma, è davvero anche questo. Però io penso che questi soldi serviranno per manifestazioni che dobbiamo fare, per situazioni che si verificano nella maniera che viene, quindi sono soldi che noi si prenderanno a breve. Quindi, che vi posso dire, questo me, che vi posso dire, bisogna fare una velocità, una luminata, vogliamo fare qualche manifestazione? A che cosa si dice, guarda, guarda, non ho avuto tre volte, me, in maniera molto dettagliata di quello che non è stato fatto, in maniera dettagliata, che cose sono questi, questo me che cosa deve? Io penso che voi dobbiamo pensare, tutti quanti, nell'imminenza, cioè che cosa servono questi soldi, a questi soldi che cosa ci possono servire? Abbiamo pagato le manifestazioni, dobbiamo fare le progetti per il giornale, per fare i legami per i consigli, per i finanziamenti, per i colleghi, cioè sono soldi che noi dobbiamo utilizzare per fare queste situazioni, cioè non è che qua dobbiamo fare 8 mila euro, non è che chi si affronta per l'anno,